Portadocumenti a tenuta stagna. Questo portadocumenti è un materiale trasparente dotato di una chiusura a velcro e di un laccetto per agganciarlo in qualche zaino, qualche tasca, qualche equipaggiamento. Può contenere cartine topografiche, passaporto, denaro, patente, documenti. È semplicissimo. Si apre la sua unità, si inserisce il materiale che si intende proteggere. In questo caso mettiamo una cartina che è trasparente per cui si può utilizzare anche attraverso la confezione. Poi viene reclinato in questa maniera una prima volta, una seconda e una terza fino ad arrivare a questa dicitura in inglese che dice che va chiuso di modo che non si permette ai liquidi, all'acqua, di entrare e bagnare i documenti. Materiale costruito molto bene, totalmente imperlignabile, pratico, facile da utilizzare, ingombrante il giusto e non risente anche se viene piegato. Le dimensioni sono di 12,7 cm x 18,4 cm. Grazie! Grazie a tutti.